Con mia sorpresa abbiamo letto più di metà, un centinaio di pagine, volando in due ore e mezza e poi l'ho finito ieri sera e devo dire che quello che diceva poco fa Giancarlo è assolutamente la prima caratteristica che ti colpisce, cioè che lo leggi, va giù, come si dice di certo vino, va giù come l'acqua. Siamo quindi il 11 settembre, il 19 giovedì, da un pontino sul Canal Grande da Venezia alle 13.30 un uomo esile, col cranga rasato, il volto valido e incavato, sale su un motoscafo, non è solo, devono condurlo alla punta San Giuliano a Nestre, visto passeggiare per le vie di Torino o di Milano in ormai gli abiti borghesi, non testerebbe interesse. Quell'uomo però è la figura più carismatica che l'Italia possieda, indossa una giuba di capardin grigio-verde con il babbero bianco di lanceri di Novara. A tracolla porta la bandoliera di cuoio marrone degli alti reparti a cavallo, sul petto, dalla parte del cuore, sono appuntati i nastrini delle decorazioni guadagnate durante la Grande Guerra. Una medaglia d'oro, tre tarcento, due di bronzo, due ordini militari di cara Savoia, tre croci al merito, il distintivo donore di mutilato per aver perso un occhio in azione. Sui risvolti delle mani che i gradi di tenente colonnello sono contati da due spade incrociate sotto una corona reale a testimoniare le tre promozioni per merito di combattimento. Alberto ha avuto la bella idea di raccontare come era vestito nell'incipi del libro d'annunzio mentre partiva per quest'impresa e adesso vi leggo le ultime due righe di come si era vestito invece quando tutto è finito. Salto subito alle conclusioni. Siamo nel gennaio del 21 dopo il Natale di Sangue, ma avremo modo poi di raccontarvi cosa è accaduto nel frattempo e sulla sua divisa spiccavano solo due onorificenze, la medaglia d'oro al valore militare e la medaglia di Ronchi. Se ne era andato con tutt'altro umore che era rappresentato soprattutto nell'immaginifico d'annunzio nel modo in cui si rappresentava. Pierluigi Vercesi pubblica Fiume, l'avventura che cambiò l'Italia con Neripozza. Perché ritiene l'episodio di Fiume storicamente unico? Perché una storia come quella di Fiume dove un uomo d'annunzio, un poeta che aveva già avuto comunque esperienze militari importanti, che guida poco più di un migliaio di uomini e va alla conquista di una città, è vero che c'era già stato l'episodio di Garibaldi, ma d'annunzio tiene quella città per 15 mesi e quella città diventa un laboratorio dove vengono sperimentate cose che fino ad allora non sono mai state sperimentate e che in qualche modo, nel bene e nel male, influenzeranno l'Italia del secolo successivo. Ci faccia qualche esempio? Faccio un esempio, innanzitutto d'annunzio è quello che inventa delle liturgie che poi il fascismo copierà, ma sarebbe un errore pensare che Fiume è la cule del fascismo, semplicemente che d'annunzio era un grande inventore di liturgie come il discorso al balcone, in un certo linguaggio eccetera eccetera, che Mussolini lo copiò. In quel posto, a Fiume, si formarono le due anime dell'Italia che poi incontreremo per tutto il secolo successivo, per tutto il Novecento, una parte spostata a destra e una parte spostata a sinistra, ma soprattutto c'era un'idea forte in mezzo a tutto questo che era quello di creare una nuova società piuttosto egualitaria, la Carta del Carnaro ne ha una rappresentazione, e dove il fattore culturale, il fattore della crescita culturale della popolazione fosse al centro. D'annunzio mise fortemente suo dentro alla Carta del Carnaro una cosa che potrebbe sembrare ridicola ma in realtà è interessante e che dice che la musica è religione di Stato e tutti hanno il diritto di accedere ai teatri gratuitamente.